Siamo contenti di aver fatto tre incontri con Paolo, però siamo scontenti che siamo finiti, quindi insomma sono contenta che sia finita questa trilogia, ma speriamo davvero che ne facciamo delle altre. Vedo che alcuni sono stati fedeli alle tre incontri, altri sono nuovi questa sera, quindi ci fa molto 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 piacere e ringraziamo Paola perché sappiamo che sta portando un valore aggiunto, insomma con le sue parole al nostro lavoro e le nostre idee. E stasera veli d'acqua e veli di seta ovviamente per lei saranno qualcosa di magico, per noi sono la nostra storia perché sono la storia diciamo della potenza energetica dei mulini che ha generato come dire queste trasformazioni uniche e importanti per la nostra città che si possono poi trasformare in veli, in sete, in stoffe, in carte, in pelli. Per quanto riguarda quindi le possibilità di avere degli altri incontri, vi preannunciamo che giovedì prossimo, non mercoledì ma giovedì 28, presentiamo in questa sede un libro molto interessante perché è il libro che racconta una storia molto particolare che chi ha visto il nostro la nostra mostra e lo sa o meglio ci sono nella parte inferiore appena entrata c'è la storia del di questa centrale idroelettrica che ha partorito energia pulita alla fine dell'ottocento per un ventennio per dare energia alle sale operatorie del Rizzoli. Questa cosa unica veramente di avant post di energia pulita, cioè energia che viene da una fonte non inquinante, si è trasformata in un libro che abbiamo fatto insieme con l'Istituto Rizzoli e la curatrice è la nostra professoressa, diciamo professoressa delle acque Maria Cecilia Golini e Patrizia Tomba e ci saranno i due direttori, Andrea Bolognesi e direttore dello IOR. Quindi insomma un evento importante per la nostra città perché poi è durata solo 20 anni, perché poi era troppo facile perché era arrivata l'energia elettrica su palificazione e quindi invece di andare a prendere energia da una centrale idroelettrica che era posta poco più avanti qui nel nostro opificio, sì, era più facile attaccare la spina e prendere la luce elettrica, però questo ci deve far riflettere anche per le questioni importanti che stiamo vivendo oggi. Quindi grazie Paola per essere stata con noi, ti do la parola e parlaci delle sedi. Allora io mi scuso con tutti perché questa sera è allergia, allergia, allergia dopo 30 anni di assenza, evidentemente il vento dell'altro giorno in piazza maggiore ha compiuto i suoi danni e io sto benissimo però ho questo attacco di allergia molto violento che non mi impedisce di parlare ma probabilmente mi impedirà di avere la fluidità di sempre. Vi chiedo ancora scusa, di solito cerco di essere impeccabile, oggi non lo sono quindi mi dovete perdonare. Possiamo... Eh, pazienza, pazienza. Possiamo spegnere le luci? E poi vieni qua, vero Chiara, a sistemare qua. Allora, prima, mentre Chiara si adopera per sistemare, io sono reduce da Bari, dove dovevo essere per inaugurare una mostra e ne ho approfittato, chi era presente alla puntata, la prima puntata in larga parte dedicata ad Uilio Cambellotti e alle meraviglie del Palazzo dell'Acqua, sono andata concretamente a vederle e vi confermo che il palazzo è davvero, davvero una magnificenza. Possiamo sistemare, Chiara? Allora... Perfetto. Allora, la triade, che si è così composta, chi ha seguito tutto lo sa, la prima puntata è stata dedicata alle incursioni delle acque d'artista, con alcuni casi paradigmatici che in ambito contemporaneo e meno contemporaneo si sono prodotti per la realizzazione di opere d'arte legate all'acqua. Da casa non ci vedono, ma non devono vedere me, non importa. Ah, ecco. La seconda, il secondo incontro è stato molto struggente, devo dire, con una partecipazione emotiva anche da parte vostra, molto intenso e molto caldo. Quando eravamo all'interno della giornata internazionale dell'acqua, il 22 marzo, quindi certamente occorreva dedicare più che una argomentazione di carattere scientifico o didascalico, un canto d'amore. Ecco il motivo per cui abbiamo cominciato con San Francesco, con la Laudazio di San Francesco per poi proseguire tra pittura e poesia passando per la fontana dell'eterna giovinezza, Petrarca e tanto altro ancora, ma per contemplare l'acqua all'interno di una sua matrice profondamente sacrale. Quindi siamo partiti da una dimensione artistica. La seconda puntata è stata una dimensione universale, profondamente legata alla spiritualità dell'acqua. Ci sembrava doveroso di dedicare almeno un incontro all'acqua locale e quindi alle attività non più universali e di grande, come dire, liturgia spirituale, ma quelle che sono invece che furono le attività dell'acqua in sede bolognese, proprio perché la realtà cittadina è una realtà parte della quale non afferisce alle mie competenze, quelle le lascio alle competenze dell'opificio o a quelle di Milena molto più preparata di me o a Cicilia Ugolini o al direttore Andrea Bolognesi relativamente al reticolato delle acque e alle attività idrauliche che si costituiscono come un tessuto preziosissimo a partire dall'ambito medievale. Io naturalmente che di competenze idrauliche non ne ho vi porto a passeggio non tanto sui mulini ad acqua ma quanto sulle ricadute che questa industria della seta ha all'interno della città dal secondo medioevo fino a tutto il settecento. Cosa sono questi con i quali io vorrei cominciare questa piccola promenade? Sono gli statuti dell'arte della seta datati 1372 con miniatura di Nicolò Di Giacomo di Nascimbene raffigurante l'incoronazione della Vergine che si conservano a Bologna all'archivio di Stato. perché voglio cominciare con questi perché vedremo qual è una relazione particolarmente intensa tra in questo caso l'iconografia parla chiaro qual è la scelta iconografica che viene fatta per gli statuti dell'arte della seta certamente non una crocifissione è indispensabile avere un soggetto di natura soave che si predispone si propone per un canto elegante e di incoronazione quindi legato anche alle alle radici corporee del capo vedremo perché e quindi c'è una relazione particolarmente intensa proprio con la Vergine. Questa è una cosa che nell'ambito della storia dell'arte succede molto spesso per esempio vi faccio un esempio di confronto i cassoni nuziali che tanta parte hanno all'interno della tradizione quattrocentesca e cinquecentesca non soltanto fiorentina ma italiana in genere va da sé che i soggetti decorativi all'interno del perimetro esterno dei cassoni nuziali devono essere soggetti ameni non devono essere soggetti plumbei e in particolare quali sono i soggetti cari ai cassoni nuziali le favole di Ovidio e tutto ciò che comunque manifesta una celebrazione dell'unione della grazia della gioia della felicità e di un erotismo magari non particolarmente manifesto un po' velato e allusivo ma certamente che riguarda la felicità del corpo oltre che dello spirito. La stessa cosa succede in questi statuti dove il cui soggetto è l'incoronazione della vergine e vedremo proprio quanto la vergine avrà un posto di privilegio nella sua relazione con i veli. Così come la matricola, questo è un documento per la città molto noto, probabilmente alcuni di voi lo conosceranno, la matricola della società dei drappieri siamo lievemente più avanti negli anni, siamo nel 1411 ed è una miniatura celeberrima che si conserva presso il Museo Civico Medievale di Bologna e che illustra la vivacità delle vie adiacenti a Porta Ravegnana dove avveniva ogni anno il mercato più significativo per la commercializzazione dei veli da seta con il brulicare delle attività oltre alle quali vengono rappresentate anche delle tipologie di oggetti ossia le trabacche che sono le strutture in legno che i drappieri utilizzano per vendere le lane e le stoffe in piazza appunto di Porta Ravegnana sotto le due torri per sottolineare la vivacità di una vitalità anche commerciale che è particolarmente fiorente perché fiorente è la coltivazione del baco e la messa in vendita del baco attraverso un'industria che nel corso degli anni cresce smisuratamente quindi se ci avviciniamo a questa miniatura vediamo che cosa tutte le attività particolarmente cioè narrate descritte con la tipica sapienza analitica che le che questi documenti quattrocenteschi ci illustrano con una veridicità che ci riporta all'interno del cuore pulsante della tradizione imprenditoriale cittadina così come questo palazzo quindi visto che oggi il viaggio è prevalentemente cittadino lo riconoscete perfettamente sotto le due torri il palazzo della corporazione dei drappieri costruito per la corporazione dei drappieri detti anche stracciaroli e qua comincerebbe una lunga dissertazione anche di carattere linguistico moltissimi sono i testi e gli studiosi che si sono dedicati in ambito locale all'arte della seta poi ve ne elencherò qualcuno il palazzo quindi viene costruito per la corporazione dei drappieri tra il 1486 e il 1496 che stabilisce qui la propria residencia sociale quindi la propria la propria identità di carattere organizzativo il progetto del palazzo qua entreremo all'interno di tutta una serie di questioni anche di carattere architettonico sulla la progettazione ispirata alla domus magna di Giovanni II Bentivoglio la facciata come viene costruita le arcate eccetera eccetera su cui non mi voglio soffermare ma mi voglio soffermare esclusivamente su questo reticolato queste vie che poco distante il pavaglione dove si viene dove viene fatto ogni anno il mercato per l'arte della seta quindi è una città intera che a partire dal 300 in poi diventa un punto di riferimento per la seta in Europa le come dire i miti di fondazione voi sapete che ogni volta in cui noi ci troviamo di fronte all'insorgenza di un'attività c'è sempre un mito di fondazione correlativo il mito di fondazione narra che molto probabilmente la seta in città venne trapiantata dai mercanti lucchesi e la testimonianza di molte strade dedicate ai mercanti lucchesi e in particolare a un affresco che ahimè è quasi completamente invisibile ad oggi ne rimane veramente un'ombra che è proprio un fantasma che è questo e che è comunque la riproduzione della santa reliquia del volto santo che si conserva a lucca questa è la riproduzione della reliquia del volto santo di lucca ed è lo sapete benissimo è di fronte all'oratorio dello spirito santo in via val d'aposa ma c'è davvero un'ombra sempre più sfumata e sempre più illeggibile ma gli studiosi sotto come ah ecco l'hanno staccato è in restauro quindi in corso di restauro in questo momento questo mi torna perché poco tempo fa sono passato detto ma come mai non lo vedo più o comunque o si era deteriorato al punto tale perché lo vedevo talmente impalpabile come se avesse lasciato una sindone quindi mi confermate perfettamente che è stato staccato perfetto ora e anche le ragioni per esempio la toponomastica delle strade via alta seta via dei tessitori quindi c'è una relazione particolarmente intensa che riguarda anche l'organizzazione delle vie cittadine così come questa la riproduzione di questo mulino da seta che si trova al museo del patrimonio industriale con il quale questa istituzione collabora intensamente è la prova provata del fatto che la città e i documenti ne parlano in un modo molto accurato nel corso di 300 anni circa l'industria della seta in città cresce dovuta all'incanalamento delle acque strutturate nel modo che sappiamo quindi questo binomio tra le acque dei canali cittadini e la migrazione dei mercanti lucchesi molto probabilmente che cominciano ad inserirsi nel territorio grazie anche ad una serie di agevolazioni noi diremmo oggi di bonus di carattere fiscale c'è tutta una politica che riguarda la città di Bologna per incentivare il commercio dell'arte della seta che sostiene coloro che avrebbero voluto diventare gli imprenditori con delle defiscalizzazioni le chiameremo oggi ve ne dico una sola riportando quello che dice Carlo Poni sono quattro i massimi studiosi dell'arte della seta in città uno è Carlo Poni uno è Fabio Giusberti Marta Cuoghi Costantini Roberta Orsi Landini che traccia un bellissimo studio sull'arte della seta all'interno dell'enciclopedia Einaudi dedicata alla moda ma anche Lorella Grossi che si è occupata intensamente di seta a partire dalla sua tesi di laurea di una trentina di anni fa ricorda Carlo Poni che a coloro che fossero migrati a Bologna per fondarvi un'impresa di seta il comune prometteva un tiratorium e due telai in regalo l'uso gratuito di una casa e di una bottega per otto anni un mutuo senza interesse a 50 lire bolognesi per cinque anni per le spese di impianto mantenimento della famiglia acquisto di materia greggia l'esenzione dalle imposte per 15 anni la concessione della cittadinanza ed è questo il motivo per cui nell'arco di tre secoli circa l'incentivazione che viene fornita anche a coloro che vogliono lavorare e vivere di questo commercio è tale che gli 81 mulini del 1582 per dare una panoramica un piccolo confronto passano da 81 a 127 nel 1668 quindi nell'arco di 100 anni ora questo è semplicemente senza addentrarci nella questione delle politiche economiche della città ma è certamente una indicazione importante per dar conto di quella che era diventata l'industria della seta su cui queste figure che ho menzionato da poco si sono ampiamente prodotte in scritti molto accurati più che quattro cinquecenteschi devo dire che gli scritti più accurati anche con tabelle con un'articolazione di notizie particolarmente densa riguardano forse il momento di estrema produzione prima della del decadimento cioè l'ambito settecentesco e questa è una curiosità ma è una curiosità che ci fa gioco evidentemente non c'è soltanto la città di Bologna implicata in un omaggio particolarmente intenso all'arte della seta questo chi è questo è ambrogio Lorenzetti ed è l'allegoria del buono e del cattivo governo che si trova al palazzo pubblico di Siena perché ve la illustro perché se voi buttate l'occhio su queste vesti di queste dame che compongono un girotondo particolarmente armonioso è stato notato non soltanto da me che a mia dietro ricordo quando mi occupavo più intensamente di storia del costume ogni volta che sottolineavo questa questa immagine trecentesca mi ero accorta che alcune vesti sembrano avere l'immagine della libellula o addirittura di una figura stilizzata di Baco poi ne ho trovato conferma negli scritti di Roberta Orsi Landini illustre studiosa fiorentina sui sistemi della moda antica e allora mi sono sentita abbastanza rincuorata nel potere affermare con una certa così approssimazione che molto probabilmente queste vesti dubito che il tessile del tempo proponesse davvero delle figure stilizzate di libellule quantomeno non così grandi ma evidentemente è un modo per sottolineare anche attraverso le vesti la grazia la opulenza della seta e la capacità di compiere questo girotondo di buon governo con altrettanta buona filatura addosso cioè è più un emblema che un rimando al tessile concreto fatto sta che questo emblema con la libellula in un modo così cioè così evidente riporta certamente a un utilizzo della seta dei bacchi e di tutte le attività produttive un po' in molte città toscane che ormai avevano avviato la loro produzione e poi certamente c'è poi arriviamo magari a delle cose un po' più simboliche nelle quali lo struggimento regna sovrano ma questo come dire queste basi sono indispensabili per poi capire anche altri elementi. Bando e provvisione sull'arte della seta pubblicata nel 1609 ora entrare nel ginepraio dei bandi è una cosa che richiederebbe una pazienza certosina per scorporarli non dico anno per anno ma certamente decennio per decennio perché in tutto l'ambito dell'antico regime la moda di questo me ne sono occupata per vent'anni ma fino a vent'anni fa poi ho cambiato interessi la moda è regolamentata e disciplinata non si tratta semplicemente di individuare nei dipinti dei capricci dell'artista o dei capricci del committente ciò che noi vediamo in ambito pittorico almeno fino alla fine del settecento è in larga misura uno specchio credibile e fedele che fa i conti e con quello che sta passando la moda del tempo e con la regolamentazione che ogni città dispone e predispone per calmierare i prezzi per far sì che il lusso non regni sovrano le autorità cittadine pontifice o laiche che siano o congiunte come il caso di Bologna che ha un governo misto per tanti anni si adoperano e c'è una letteratura sterminata sui bandi che disciplinano la lunghezza dello strascico delle vesti che disciplinano non soltanto i beni legati al lusso ma disciplinano ogni azione della vita quotidiana con non con grida manzoniane con una con un reticolato fittissimo dico le cosiddette provisioni che sono delle leggi emanate dai governi reiterate in genere l'anno successivo e che hanno una validità di qualche anno per poi essere nuovamente replicate che offrono uno spaccato particolarmente intenso su quello che è il governo della città in materia di lusso o in materia di vita quotidiana dando in questo caso la provisione sull'arte della seta prima abbiamo ricordato il fatto che i governi locali danno come dire un contributo a chi vuole impiantare un setificio analogamente troviamo il contrario cioè le provisioni sull'arte della seta che cosa disciplinano non la materia la giurisprudenza di carattere economico cioè quanti soldi io ti do affinché tu mi possa impiantare un setificio ma al contrario prevedono che cosa delle sanzioni per chi rivela dei segreti del mestiere per esempio o per chi non ottempera in maniera disciplinata tutta una serie di leggi che chi fa questo mestiere deve avere esempio il cardinal legato benedetto giustiniani e il gonfaloniere gualengo ghisleri in questo bando datato 22 giugno 1609 tendono a fare che cosa a fare il contrario a fare il protezionismo del governo locale cioè a dire proibiscono a tutti coloro che si occupano di seta o che vogliono indossare degli indumenti di seta particolarmente sontuosi proibendo l'introduzione in città di ogni sorte di seta lavorata in qualsivoglia modo con delle sanzioni economiche piuttosto gravi in modo tale da non portare fuori dal territorio bolognese filatoi torcitoi o altri attrezzi appartenenti all'arte della seta da una parte si incentiva e dall'altra parte però c'è un tentativo fortissimo di protezionismo perché è molto semplice perché Bologna non si distingue per tre secoli su un'arte della seta qualsiasi ma si distingue per l'arte dei veli da seta diventa una delle capitali mondiali del commercio non della seta damascata o della seta prodotta a Venezia a Firenze o in altre capitali italiane o europee Bologna per tutti questi fattori che abbiamo indicato per un utilizzo particolarmente sapiente dei canali per una differenziazione anche dei prodotti capisce che il business è il velo e sui veli costruirà per tre secoli la propria fortuna economica questa è una particolarità molto singolare che finora abbiamo individuato all'interno dei documenti cioè la parte meno meno struggente e meno affascinante ma se poi e questo è un omaggio ovviamente all'amica Zita Zanardi al lavoro ciclopico che fece in questo libro Bononia manifesta che contiene centinaia centinaia e centinaia di bandi e di editti che regolamentano e disciplinano tutte le attività del vivere civile ma no io voglio arrivare qua mi crederete a questo punto perché abbiamo gettato le basi abbiamo detto dell'industria di come viene configurata l'industria serica bolognese del successo che ha a partire dalle matricole che testimoniano la gli accadimenti reali dal punto di vista anche giuridico però forse fino a che non arriviamo ai dipinti non ci crediamo del tutto e i dipinti invece ci testimoniano certo non li troviamo soltanto in ambito bolognese però tutto ciò che viene prodotto in città ha una caratteristica di una sottolineatura del velo della vergine o dei veli da capo in generale che diventa particolarmente pregnante e credibile e adesso ci facciamo gli occhi questo è Giotto è un particolare del politico di Bologna siamo attorno al 1330 circa e questa la vediamo ancora meglio che cosa vedete che cos'è che si individua non soltanto quella che è la tradizione iconografica legata alla vergine più più sontuosa e più di di accademia come il manto blu ma sotto a questo manto blu c'è il soggolo che è facilmente individuabile e che avrà una vita piuttosto lunga e la ritroviamo sia in città che nelle fiandre c'è una tradizione particolarmente ricca di proposte anche in ambito fiammingo così come qua ci facciamo un po' gli occhi con una bellissima carrellata questo è vitale da Bologna la Madonna dei denti per vederlo dal vivo dovete andare al museo da via Bargellini siamo sempre attorno agli anni 30 40 in realtà questo è del 45 datato 1345 e lo vedete ancora una volta quindi per individuare i primi vagiti di questo velo serico sottilissimo preziosissimo guarda un po' prima ancora di trovarlo in ambito quattrocentesco sul velo di signore e gentildonne lo troviamo dove sul capo della vergine vi ricordate quanto abbiamo detto prima sulla matricola la prima matricola che porta con sé l'incoronazione della vergine come a suggellare un patto di armonia e ancora gli esempi sarebbero tanti ho scelto quelli a me più cari questo è un altro dipinto eccezionale di Ludovico Carracci è un ritratto di vedova siamo nel 1585 questo è conservato negli Stati Uniti a Dayton potremmo inquadrarlo e potremmo spendere molte parole per questo dipinto sia per tutta la tradizione delle vesti delle vedove per la posa per l'azione di preghiera particolarmente cara all'umiltà e alla devozio moderna siamo in anni post tridentini quando il discorso intorno alle immagini sacre profane di paleotti è già stato pubblicato Bologna è una delle capitali culturali più di attrazione anche per le grandi le giovani generazioni di artisti che si adeguano a quella che viene chiamata poi la devozio moderna e ne ricavano tutta una serie di proposte in linea con la tradizione papale certamente è interessante verificare che il velo è attributo intenso anche quindi non soltanto della vergine o delle gentildonne ma viene indossato anche dalle vedove falpaio questo spessissimo li faccio vedere insieme sebbene qui siamo all'interno della scuola bolognese questo è bronzino perché un po' per la posa un po' il naso aquilino un po' certamente il dettato in questo caso particolarmente caro alla componente più smaltata della maniera è sembra quasi un antecedente del dipinto di Ludovico ma vedete anche qua che gioiellino da capo si vede e si vede ancora meglio in questo ingrandimento dove se noi andiamo a sgranare la presenza del velo la troviamo davvero per tanto tempo questo ci consentirebbe ci dovrebbe permettere di aprire un ulteriore parentesi della parentesi perché perché per avere la risposta dovremmo leggere la lettera di san paolo ai corinzi o la tradizione ecclesiastica dei primi secoli che insiste su quale assioma che la donna deve avere il capo velato come segnale di sottomissione come segnale di umiltà come segnale di inferiorità e di adeguamento a un compito di affiancamento all'uomo ma non di autonomia il velo il capo velato diventa la cifra distintiva che stabilisce attraverso un reticolato di leggi l'adeguamento alla norma alla educazione e alla diremmo cristianità questo dai testi della patristica in poi i testi della patristica tertuliano o san paolo anche tertuliano non insistono solo sulla necessità di non mascherarsi o di non truccarsi perché il trucco è figlio del demonio è figlio di un camouflage che non proviene direttamente dalla natura con cui dio ha creato il volto il trucco è un elemento barbarico dissonante che proviene dalle insidie di satana che vuole trasformare in maniera diabolica i tratti del volto così come sono stati dati alla nascita non insiste solo su questo non insiste solo su una vanità da calmierare da temperare ma insiste costantemente sulla equivalenza tra l'umiltà e il capo velato il passaggio è chiarissimo e viene ribadito reiterato in ogni dove è ovvio che poi le provisioni di ogni città dicono danno la misura di quanto oro può essere come dire di quanto oro può essere corredato un velo perché ovviamente ci sono sempre queste contraddizioni da una parte l'educazione cristiana che insiste su non sulle buone maniere ma sulla necessità di avere un comportamento umilmente acconcio con un velo capace di proteggere il capo come segno di sottomissione la moda fa il suo corso e produce invece tutta una serie di decori e di soluzioni che le leggi provano di temperare o distemperare per dare un colpo al cerchio e uno alla botte cioè per consentire che l'industria proceda e contemporaneamente per non essere in totale difformità da quello che la tradizione ecclesiastica annuncia e predica questo è un documento dove noi vediamo un velo per vedovile un velo nero quindi anche in altri che avevamo saltato ricavato dai veli da seta bolognesi di Marta a cuochi costantini anche in questo caso vedete dei frammenti queste sono delle lettere con delle richieste voglio un velo di questo colore perché mi serve quindi sono richieste mercantili che però ci danno la misura di che cosa del campionario questo è un vero e proprio campionario così come quest'altro frammento di velo allegato ad una richiesta in data 19 dicembre 1782 così come quest'altro è un altro frammento di velo nero allegato ad una richiesta in data 22 settembre 1744 le città soprattutto le città vicine o non necessariamente troppo vicine o adiacenti sanno che rifornirsi dai mercanti bolognesi relativamente al velo da seta è cosa buona e giusta perché la qualità evidentemente è molto alta beh questo non potevo non mostrarvelo ovviamente questo parla da solo ed è un altro esemplare di velo più che vedovile questo è più un velo per le donne non più giovani questo è il celeberimo ritratto della madre di guidoreni che in pinacoteca 1610 circa è un velo che ha una lumeggiatura e una capacità di dialogare con il colore degli occhi e quindi la penetrazione dello sguardo che guidoreni ha avuto la capacità di trasfondere all'interno di questo dipinto è certamente uno degli esemplari locali più rappresentativi quando si entra all'interno della narrazione dei veli da seta è sempre illustrato con grande compiacimento da parte di tutti gli studiosi proprio come sottolineare il vertice di questa esecuzione che restituisce pur in un'esecuzione di carattere psicologico profondamente intenso e pieno di pathos non trascura particolari vestimentari come nel caso del velo quasi compiacendosi e dandocene una illustre testimonianza e ancora qua invece siamo più avanti questo è Francesco Toselli è un ritratto di Anna Monari Zoboli nel 1790 qui lo vediamo avvolto è quello che viene chiamato nel settecento il fichu il fichu è questa sorta di sciarpa di seta particolarmente avvolgente che talvolta serve anche per proteggere le scollature troppo audaci in modo tale da conferire movimento e contemporaneamente una finta pudicizia perché in realtà il fichu non ha uno scopo protettivo ma uno scopo squisitamente decorativo anzi che si anima ulteriormente anche per essere in dialogo con una fase legata alle parrucche legata agli orpelli legata quindi a questa contraddizione e qua siamo nella piena contraddizione il velo abbiamo detto nasce come come strumento per sottolineare la pudicizia qui il velo e le parrucche sono perfettamente in contraddizione gli uni con gli altri da una parte c'è l'esaltazione dell'orpello e dall'altra parte c'è un'esaltazione finta della modestia che a queste date non si può più leggere come modestia ma come puro elemento decorativo e poi c'è il mio preferito io adoro intimamente questo dipinto di Lavinia Fontana dipinto molto complesso su cui anche Federico Zeri si è cimentato con una sorta di grande mistero perché le stesse parole di Federico Zeri sottolinearono di questo dipinto di Lavinia Fontana veramente la sua cripticità e Zeri che era solito scrivere piccolissimi panflet nei quali con poche righe dava delle interpretazioni illuminanti lo trova, lo definisce un quadro ipnotico alla maniera dei dipinti quattrocenteschi questo è un dipinto di Lavinia Fontana datato 1600 che si trova, è conservato a Roma alla Galleria Spada ed è un ritratto di Cleopatra o meglio è un'interpretazione di Cleopatra il cui soggettario e la cui iconografia ha delle, ha una vitalità profondissima soprattutto in ambito quattro, cinque, seicentesco perché il soggetto si presta delle interpretazioni mitologiche cariche di allusioni e di significati la Cleopatra di Lavinia vedete il serpentello che esce dalla, da un'anfora riccamente cesellata il serpente è l'attributo di Cleopatra perché è l'agente del proprio suicidio ma contemporaneamente questa Cleopatra veste una sorta di abito alla turca con un copricapo che sembra quasi una celata medievale, sembra un elmo con una protuberanza quasi rinsaldata con l'amido ed è questa la ragione per la quale Federico Geri che non riesce bene a collocarlo proprio per la densità dei significati che gli stanno dietro parla di questa Cleopatra come di un dipinto ipnotico dalla lettura multifocale e multistratificata ma dove certamente gli echi del 400 sembrano farsi e caricarsi di maggiore interesse come se fosse un dipinto di marca neofeudale eppure è un dipinto del 1600, non è un dipinto del 400, era nel 400 che venivano fatti i soggetti di profilo non nel 600, la vinia fa quindi un'operazione quasi retro, dipinge la sua Cleopatra alla maniera della medaglistica di Pisanello del 400 di profilo con questa specie di elmo, sembra quasi il corno di un unicorno che è un velo di seta quindi è una delle interpretazioni più affascinanti, più stravaganti e più insolite che possiamo trovare sul velo bolognese ecco poi ovviamente io qui andrei ancora molto per le lunghe ma non posso perché ho ancora tante cose da dirvi e quindi queste le guardiamo veramente in scivolata guardiamo in scivolata al confronto con la pittura quattrocentesca questa è una divina, divinissima madonna di Jean Fouquet che è datata a 1450 che si conserva ad Anversa scusate se vado di fretta ma ho ancora tante cose da mostrarvi dove ormai avete imparato a individuare che cosa? il velo da seta lo troviamo su tutte queste bellissime teste questa è un'altra magnifica madonna la madonna salting la cosiddetta madonna salting di Antonello da Messina che a Londra la National io purtroppo non posso sostare ma voi il vostro occhio vada proprio a cogliere tutte le sfumature di questi veli che si vedono anche su questa madonna bruna ovviamente l'immenso Piero della Francesca noi ritroviamo i veli nelle acconciature di Piero della Francesca su tante acconciature ne ho scelte solo due ricavate dal ciclo della vera croce della chiesa di Arezzo la chiesa di San Francesco ad Arezzo questa è una delle scene più rappresentate più celebri che è l'incontro di Salomone con la regina di Saba vedete l'acconciatura della regina di Saba che è analoga ad un'altra acconciatura delle donne del corteo della vera croce tutto questo per dirvi che cosa che una volta individuata la presenza del velo soprattutto all'interno di Vitale e di Giotto che costituiscono un po' i due elementi salienti e per il Trecento e per la nostra città a quel punto possiamo divertirci nell'andare a punteggiare e nell'andare a vedere le ricorrenze del velo e in ambito locale e in ambito internazionale fino naturalmente a capolavori come la costruzione anche di queste acconciature particolarmente complesse che contemplavano anche un'altra delle stravaganze del tempo cioè la rasatura delle tempie per far sì che la fronte e tutto il perimetro del volto risultasse più esile, più affilato e più allungato si allungavano le vesti con lo strascico si allungava la testa rasando le tempie esattamente come in antico nell'antichità egizia si allungava la testa come simbolo di regalità con delle piccole assicelle che venivano che rinchiudevano il cranio dei regnanti o di coloro che erano in procinto di avvicinarsi ai poteri forti quando il cranio dei bambini era ancora molto piccolo e quindi molto malleabile per far sì che potesse crescere con una certa con un certo allungamento della calotta posteriore del cranio sono tutti i giochi che noi umani abbiamo costruito nel corso dei decenni per complicarci un po' la vita e per avere delle sembianze non naturali ma più in sintonia con gli elementi archetipici che in quel momento costituiscono il valore dominante quindi anche in questo caso Petrus Christus li guardiamo veramente con grande velocità compreso il trittico Portinari che è un capolavoro assoluto che si conserva a Firenze agli uffici tutto quello che stiamo vedendo è tra in questo momento tra il 1440 1450 1460 circa il cappello da fata tipico cappello da fata corredato di che cosa? di un velo bianco lunghissimo poi nessuno di noi è in grado di dire se questo a meno che non si trovino i documenti del trittico Portinari dove il pittore parla chiaro perché magari c'è una distinta di pagamento dove l'effigiata dice esplicitamente dove si è servita per l'acquisto dei suoi beni materiali noi non siamo in grado di fare delle illazioni del fatto che questo fosse o non fosse un velo bolognese non voglio arrivare a questo ma certamente siamo in grado di dire vista l'incidenza e la frequenza con cui il velo è di moda di gran moda in questo momento si comprendono le ragioni per le quali la città si arricchisce così tanto e diventa un primato vero e proprio quello della costruzione dell'industria del velo bolognese perché evidentemente la richiesta entro i confini e fuori dai confini è molto alta provo di muovermi perché altrimenti non riesco a finire campionario di veli quattrocenteschi fiamminghi e campionario di varianti lievemente più attardate tra fine quattro e primi cinquecento ora io non so quanto tempo ho ancora che ora è? sei e mezza quindi sarei anche invitata a muovermi verso il finale mi limito a darvi alcune indicazioni su alcune attività già fatte sul velo in particolare questa mostra di cui c'è un catalogo magnifico questa è una mostra che fu fatta al filatoio sempre per rimanere in ambito è abbastanza singolare questa cosa che è un vecchio filatoio di seta che si è ubicato a Caraglio ossia in provincia di Cuneo è stato riadattato in questi ultimi anni ad attività espositive particolarmente ricche di testimonianze e anche abbastanza insolite questa è la storia del filatoio di Caraglio di cui però devo dire negli ultimi anni ho un po' perso le tracce non vorrei che ci fossero delle come dire delle attività che si sono fermate ma negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 sono state fatte mostre eccezionali una delle quali legate proprio al velo nella sua accezione più ampia cioè la costruzione di questa mostra interamente dedicata al velo da seta quindi anche un azzardo e fino a quel momento nessuno aveva osato fare una mostra interamente dedicata al velo contemplava sette sezioni il velo come metafora del tempo nelle velature pittoriche la memoria e le impronte per esempio il soggetto il velo della Veronica il candore e il dolore il velo nella castità il velo nel lutto il velo nell'abito da sposa il velo tra amore e morte il velo nelle soglie anche la soglia cioè il velo diventa anche una sorta di paratia uno spazio oltre il quale c'è altro e quindi diventa anche un divisorio tra il tempo di prima e il tempo di poi tutti gli orientalismi e tutti gli occidentalismi possibili immaginabili e il velo globale nell'islam ed intorni il testo è il catalogo è davvero molto bello allora anche qui in grande velocità perché ho due cose da dirvi che sono due chicche e ci tengo particolarmente allora il velo Bois de Boulogne de Nittis 1878 questa è la veletta nella moda tardo-ottocentesca il velo del Cristo del Mantegna vado ripeto vado in velocità perché a questo punto non solo perché non c'è più tempo ma perché abbiamo già tracciato in maniera molto chiara i confini per cui possiamo anche permetterci di saltare sulle immagini in maniera abbastanza conseguenziale questo non ha bisogno di presentazioni è un dipinto celeberivo il Cristo morto 1470-1480 siamo a Brera così come non ha bisogno di presentazioni il Cristo velato della Cappella San Severo a Napoli dove il velo nel Cristo velato diventa il Cristo velato cioè il velo e il Cristo sono la stessa cosa e questo ci chiederebbe anche un ulteriore supplemento di indagine cioè sulla capacità poi dell'artista di plasmare la materia come se fosse un biscotto friabile e la capacità davvero di rendere veli d'acqua veli di seta questo sembra davvero un velo d'acqua quindi anche questo faceva parte del volume a cui abbiamo fatto riferimento poco fa dedicato alla mostra di Caraglio quindi vedete quante declinazioni il velo può avere come come le stiamo semplicemente accennando sempre nella Cappella San Severo la statua della pudicizia quindi il dolore il velo che copre il dolore il velo nella pudicizia l'abbiamo menzionata in San Paolo e in Tertulliano ma in questo caso il velo che copre la morte è il velo che copre la vita cioè vedete la polissemia completa alla quale non riusciamo non si tratta di tirare le somme al contrario si tratta proprio di dar conto di tutte quelle che sono le complessità una foto di moda degli anni 50 di Erwin Blumenfield Tina Modotti di nuovo Jacques-Henri Lartigue al Bois de Boulogne all'inizio del Novecento guardate questo velo è profondamente diverso da questo velo o da questo velo e quindi si tratta quando si va a costruire un impianto di una mostra di dar conto di tutte le sue evenienze e ancora da sempre le foto di Jacques-Henri Lartigue o foto bellissime di moda degli anni 50 che non sono per niente implicate né con la pulicizia né con il dolore ma semmai con lo charme e con quello che in Francia si chiama le je ne sais quoi quel certo non so che che è il vedo non vedo legato non certo ai criteri della pulicizia ma a criteri più allusivi e più di mistero con il quale manifestarsi in questo caso velo e sigaretta diventano una cifra stilistica legata a che cosa? all'eleganza e ancora no? quindi sono veli molto più leggeri molto meno problematici da sciogliere rispetto invece al velo che abbiamo detto o foto di grandissima eleganza che non ci pongono delle problematiche da risolvere ci chiedono semplicemente un accompagnamento estetico per apprezzarle ma non hanno nel loro essere un caricamento energetico particolarmente complesso mi avvio davvero alla fine però due cose permettetemele queste sono sono i veli di Teheran sono i veli della maschera totale sono i veli che ritroviamo in ambito cinquecentesco nei grandi gli atlanti di moda che sono stati una passione della mia vita come in questo caso Cesare Veccellio degli abiti antichi e moderni di tutte le parti del mondo 1591 questa è la turca che ci riporta per l'abito alla Cleopatra di Lavinia Fontana e per il per la testa una sorta di scafandro che cerca di interpretare secondo gli strumenti cinquecenteschi quelle che sono le maschere totali del velo totale islamico o come ancora in quest'altro caso questo è Bellini la predica di San Marco a Gerusalemme e entriamo in un altro discorso ultime due cose poi veramente chiudiamo non posso non menzionare non è una citazione di me stessa ma è il fatto che anni addietro dieci anni fa circa ho avuto il grande privilegio di io ho lavorato moltissimo su alcune reliquie una di queste reliquie è una reliquia legata al velo della Vergine che si conserva a Imola al Museo Diocesano perché è un processo particolarmente interessante perché mi limito a fare semplicemente questa considerazione se voi pensate a tutte le reliquie che vi vengono in mente sono reliquie di ossa reliquie femorali reliquie pensate alla liquefazione del sangue di San Gennaro reliquie in qualche misura implicate con non dico con il tema dell'horror o dell'orrido ma certamente con che cosa con il corpo del santo o del beato che secondo la tradizione conferma di avere avuto un transito terrestre la cui morte produce proprio nei residui di questo transito terrestre l'energia radiante della guarigione non so se è chiaro il ragionamento se pensiamo alle reliquie le reliquie sono prevalentemente reliquie corporali perché è nella manifestazione del corpo è un altro dei paradossi cristiani che da un certo punto di vista lo vorrebbe reprimere poi lo lo conserva perché la sua conservazione è fonte della radianza il contatto con le reliquie avviene attraverso resti corporei il velo no il velo è di tutte le reliquie così come la sacra cintola c'è anche la reliquia della sacra cintola che secondo la tradizione è stata indossata dalla vergine che si conserva a prato la reliquia della sacra cintola e la reliquia del velo sono indipendentemente dalla loro veridicità qui non stiamo discutendo sulla bontà di questi oggetti se sono veri o se sono delle leggende metropolitane stiamo cercando di ragionare sul loro funzionamento le uniche due reliquie non implicate con la componente drammatica del corpo sono la reliquia del velo e la reliquia della sacra cintola e questo è particolarmente interessante perché è come se la loro stessa presenza non portasse con sé degli elementi di drammaticità ma degli elementi di soavità il velo è parente della vergine non solo della pudicizia della castità eccetera ma è parente stretto della vergine della rivelazione della dolcezza più soave e della protezione non soltanto della gravidanza miracolosa ma di un regno che si dispone e si apre attraverso la rivelazione e in questo senso funziona in un modo molto diverso dalle altre reliquie è come se avesse in sé connotati più celesti meno impregnati di dolore e di sangue pensate no? non è un femore non è un osso del cranio è il velo della vergine con il quale la cui gravidanza misteriosa avvenuta per via uditiva perché secondo la tradizione l'annuncio dell'arcangelo è stato sufficiente a far sì che il mistero si compisse quindi è una sorta di gravidanza auricolare il velo ne è il suo come dire diretto accompagnatore e alcuni anni addietro questo è il reliquiario che si conserva a Imola all'interno di una campagna molto complessa di studio della chiesa di Santa Maria in regola mi fu affidato il velo della vergine e il contributo che io diedi è proprio questo cioè lo chiamai subtilitas grazie a velata della risplendenza proprio per differenziare una reliquia così eterea così impalpabile rispetto a tutta la messe delle altre reliquie che contemplano invece un funzionamento di natura differente questa è la reliquia della sacra cintola e per finire almeno non posso non menzionarvi voi conoscete Chiara Vigo qualcuno di voi conosce Chiara Vigo sapete chi è Chiara Vigo è una tessitora noi abbiamo chiamato la nostra lezione veli d'acqua veli di seta Chiara Vigo è una maestra vivente dell'arte del bisso l'arte del bisso che il bisso è la seta più pregiata dei veli da seta quindi siamo all'interno di un velo da seta illimitatamente prezioso che viene estratto da un mollusco marino quindi Chiara Vigo è la maestra dell'arte del bisso è la seta del mare è la seta d'acqua per antonomasia Chiara Vigo ormai è notissima è venuta anche nella nostra città più volte non è semplicemente una tessitora è una è un'antenata perché le operazioni rituali che lei compie nel momento in cui va a cogliere questo mollusco lei risiede a Sant'Antioco in Sardegna compie tutta una serie di giaculatorie e di litanie quindi non è semplicemente una tessitura da un mollusco marino ma contempla una pratica rituale di trasformazione anche verbale nel momento in cui va a prendere i molluschi c'è tutto un rituale che deve essere pronunciato per far sì che la che il mollusco non sia offeso anche e non ricada all'interno di azioni scellerate come azioni che si manifestano costantemente o di pesca strascico o comunque di attività che non sono in sintonia con quella che è la vitalità profonda di questo mollusco e questo è il bisso quindi la maestra ovviamente con una serie di saperi fortissimi che le sono stati impartiti per via antenata dalla nonna è l'unica depositaria attuale dell'arte del bisso che è la seta del mare certamente attorno a questa non ha costruito un'industria ma ha costruito un'attività antropologica da conservare come un bene protetto dall'UNESCO tanto per dire cioè questa attività non 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 credo abbia un patrocinio così forte come quello dell'UNESCO ma certamente da alcuni anni a questa parte da quando è stata sollevata la questione riceve molta attenzione sia per le campagne di divulgazione che lei fa e di sensibilizzazione che lei fa costantemente nelle scuole e anche per quello che ormai l'opinione pubblica ha assimilato rispetto anche alla preziosità di questo filato chiudo con torniamo alla vergine e torniamo al velo della vergine chiudo con lei che è un amore di fotografia è un si commenta da sé ho avuto è in corso in questo momento a Bari dopo averla fatta a Pisa a Pistoia per più di un anno è in corso in questo momento la una mostra che ho curato io insieme a Marco Meneguzzo dedicata ad Aurelio Amendola che è uno dei più grandi fotografi d'arte del mondo è considerato il fotografo di Michelangelo a tutti gli effetti è la voce fotografica della sua scultura ed è una sorta di erede spirituale di Michelangelo di tutte le foto dedicate a Michelangelo ho scelto di chiudere con questa che è un particolare del volto di passiamo da Chiara Vigo che in qualche modo ricava non in qualche modo che ricava la seta dal mare come se fosse un'ostrica e come se fosse una perla marina il volto della Vergine che è stato è stato messo a confronto come il volto di una piccola perla conchiusa tra le valve e su cui hanno scritto illustri studiosi tra cui Antonio Natali tra cui Paolucci e altri ancora che Aurelio interpreta in un modo così esemplare e così delicato come a restituire la giovinezza della Vergine di Michelangelo che rimane un mistero tutti quanti si sono chiesti come mai il volto della Vergine di questa pietà vaticana sembri veramente il volto di una bambina molto probabilmente e chiudo veramente Michelangelo aveva letto Dante e aveva letto la canzone alla Vergine il trentatresimo del paradiso dove Dante dice come si appella alla Vergine Vergine madre figlia del tuo figlio e questo è il mistero figlia del tuo figlio ed è la ragione per la quale la il volto di Maria che sembra infinitamente più giovane del volto di Cristo e sembra contenere quel mistero della divinità a cui Dante fa riferimento compreso perfettamente da Michelangelo che ne traccia l'ovale come di una poco più di un adolescente probabilmente questo è il motivo per il quale questo volto continua in questo caso fotografato da Aurelio ma continua ad affascinarci a commuoverci e a apporgerci tutto il mistero della sua essenza che non a caso è grazia velata anche in questo caso ha un velo e questa grazia velata di questo piccolissimo oggetto ma ricco di storia e di tradizione che vi accompagni io ringrazio tutti profondamente ringrazio l'opificio delle acque che mi ha dato la possibilità di potervi intrattenere con tematiche così complesse e così semplici e ringrazio Milena Naldi cara amica che mi ha introdotta all'opificio e alle amiche Silvia e Chiara per questa incursione nel mondo dell'acqua che come sapete perfettamente è inesauribile e quindi speriamo di poterci rivedere in altro tempo con altre soluzioni e con altre tematiche da sviluppare insieme grazie a tutti voi di tutta la vostra attenzione e partecipazione e scusate ancora per oggi ma ho fatto quello che potevo grazie a Paola ancora grazie a voi ci avete seguito grazie alle persone anche a casa e ci rivediamo presto per chi volesse giovedì 28 con la presentazione del libro e sono sicura in l'anno prossimo con un altro ciclo di Paola grazie infinitamente grazie 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 dipende sempre dove ci sono le istituzioni che accolgono è molto complesso trasportare le nostre grazie grazie